musica 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 dite una cosa ma a zia no quando si si sposa o no? e non lo so tu ci vuoi dire e no e allora si si ok va bene ma mi preparo un vestito sennò come altro si 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 fai una cosa io e tu pure ora ora ah 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 ahah te lo so che è quando andate il comune entra pure tu perchè mi devono dare il contratto già timbrato e firmato si è vero ma ci dicono siamo venuti e non abbiamo trovato nessuno perché gli ha chiamato il telefono dicono sono avuto sono stata ammazzata ci domandano di un figlio e che sta lavorando perché se no come come si mangia capito tu ti domandi ma ci rispondi in questa maniera ok io non esce ma cosa ha per rispondere poi piglia il tuo contratto vai allo